Trovo incredibile e inverosimile che ci sia qualcuno che possa pensare che io abbia bisogno di parlare di Fabrizio Frizzi per essere intervistata, è dal 1982, da quando hanno ucciso mio padre, che sono sotto le luci dei riflettori e delle telecamere e tutto questo mi pesa perché condividere i momenti belli fa piacere a tutti ma condividere i momenti brutti è terribile, inizia così il lungo sfogo di Rita dalla chiesa a Tiscali.it. Rita è stremata, non ne può più dei continui attacchi, delle continue menzogne e del continuare a mettere zizzania tra lei e la moglie di Fabrizio, in questo momento vorrei essere totalmente dimenticata e soffrire in santa pace il mio dolore. Dopo la morte di Frizzi, infatti, Rita dalla chiesa è stata presa di mira dal pubblico e viene costantemente insultata. Ma ora la conduttrice non ne può più e dice basta. Così, dopo aver chiarito per l'ennesima volta che tra lei e Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, non c'è stato alcun diverbio, anzi, nei confronti di Carlotta mi sono sempre comportata bene fin da quando Fabrizio era in vita e maggiormente oggi e che mai ce l'avrà con Frizzi anche se lui dopo 16 anni decide di andarsene, io ho stimato un uomo, dopo mio padre e mio fratello, c'è Fabrizio, Rita dalla chiesa avanza un'ipotesi dietro il suo linciaggio mediatico. Sì, parliamo di linciaggio mediatico perché qualsiasi cosa dica o faccia, la conduttrice viene criticata e pesantemente insultata. Hai anche detto che dietro questi commenti spesso ci sono persone che appartengono a un fans club, afferma il giornalista di Tiscali. Ma la risposta di Rita dalla chiesa lascia tutti di sasso. Sì, a uno di quelli dedicati a Romina Power. E ancora, perché queste persone ce l'hanno con te? Che spiegazione ti sei data? Vorrei dire che non posso nominare il mio vissuto con Fabrizio con paragoni che non esistono, spiega Rita. Albano e Romina si sono lasciati in un determinato modo? Fabrizio ed io ci siamo lasciati in un altro. Ogni coppia ha le proprie dinamiche ed equilibri che vanno rispettati. Io non posso pagare per essere stata amica da sempre di Albano e per non esserla stata di Romina, ma solo perché lei, quando si sono separati, è partita per l'America e non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza. Sono stata vicino ad Albano negli anni della sua solitudine e in quelli in cui ha conosciuto Loredana. Se il tuo migliore amico sta con una persona, non puoi essere negativa nei confronti di questa persona. Capivo che ad Albano avrebbe fatto piacere e così è nata anche un'amicizia con Loredana. Io non voglio essere tirata in ballo nelle questioni di Romina, Albano e Loredana perché sono fatti esclusivamente loro. Voglio salvare la mia amicizia con Albano, la mia amicizia con Loredana e instaurare quel rapporto che non sono riuscita a instaurare anni fa con Romina.